Acclamiamo al Signore, che significa acclamare, significa chiamare il Signore e chiamarlo insieme. Però il Signore è qui in mesa a noi, bisogna prendere coscienza della presenza del Signore. C'è una presenza, diciamo, a livello di comunità, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mesa a loro. Ma c'è anche una presenza individuale del Signore. L'anima del giusto, se pensiamo che tutti siamo giusti, tutti siamo in grazia di Dio e in abitazione di Dio unettrino. Dio abita in ciascuno di noi, come in un tempio. E se noi siamo tutti qui riuniti e siamo tutti individualmente tempio del Signore, Siamo tutti in abitazione di Dio, figuratevi quali in abitazione di Dio, a livello di gruppo, a livello di comunità, viene prodotto in noi. Veramente Dio si tocca e Dio si fa toccare. Però la base delle in abitazioni di Dio in una comunità è in abitazione di Dio in ciascuno di noi. Perché noi siamo veramente il tempio di Dio. Come Dio abita in noi, è difficile dirlo. Tutte le astruse spiegazioni di teologi non soddisfano. Perché entriamo in un mistero. Però una cosa è vera. Che Dio abita in noi quasi corporalmente. Come in un tempio. Però stiamo attenti. L'inabitazione di Dio in noi è vitale. Non è come l'abitazione, diciamo, della pistida dentro il tabernacolo. Dentro il tabernacolo c'è la pistida. Dentro la pistida ci sono le ostie. Allora ne possiamo dire che il tabernacolo è il tempio di Dio. Sì, ma è il tempio locale di Dio. Localmente Dio è presente, ma non vitalmente. Non partecipativamente. Cioè il tabernacolo non partecipa. Non vive nella presenza di Dio. Invece non è così in noi. In noi non soltanto localmente abita Dio. Ma vi abita così, vivo. Per cui Dio ci rende partecipi della sua presenza. E ci invita a fruire dalla sua presenza. Perché Dio abita in noi? Innanzitutto, quando diciamo che Dio abita in noi, non è soltanto lo Spirito Santo che abita. È un'appropriazione che noi facciamo. Se qualcuno mi ama, cioè se qualcuno ha il mio spirito, io e il Padre verremo in Lui e faremo abitazione in Lui. Sono le tre divine persone insieme che ci inabitano. Sono dentro di noi. Queste divine persone conservano la grazia di Dio. La grazia di Dio che è partecipazione della divina natura. Viene attribuita alla presenza delle tre persone la continuità nella grazia. Se per un momento cessasse la inabitazione di Dio nell'anima del giusto, cesserebbe la grazia di Dio e conseguentemente la partecipazione alla divina natura. Però, perché Dio abita dentro di noi? Perché la grazia si sviluppi dentro di noi perché cresca dentro di noi ci rende partecipi di Dio ma anche, così diciamo, ultimamente, come fino ultimo questa inabitazione mira alla fruizione di Dio anche in questo mondo. Per cui è una inabitazione fruitiva. Dio è presente in noi perché noi possiamo fruire della presenza come una persona fruisce della presenza di un altro di un amico di una persona intima. Questa avviene nei Santi in maniera psicologica per cui è un fatto ontologico diciamo in termine classico ma è anche un fatto psicologico un fatto mistico. Cioè Dio inabita noi perché noi possiamo fruire di Lui gioire di Lui. I Santi che avvertivano questa presenza di Dio si sentivano inabitare da Dio anche prima di conoscere il mistero prima di conoscere la dottrina Santa Teresa Davila si sentiva inabitata da Dio non sapeva come cominciò a studiare cominciò a interagare i teologi Elisabetta della Santissima Trinità una mistica moderna si sentiva inabitata da Dio questa esperienza la disse al suo confessore che era un grande teologo ed è attraverso le esperienze dei Santi che i teologi cominciano a creare quegli argomenti per dire come questa Divina Trinità abita in noi però è un fatto che Dio abita con noi vive con noi e vive con noi non soltanto per dirigere la nostra vita per conservare la vita di grazia e cioè la partecipazione alla Divina Natura ma anche perché noi possiamo entrare in contatto personale con le tre divine persone e fruire della presenza del Padre del Figlio e dello Spirito tutto questo comporta una possiamo dire una sì un'esperienza da parte nostra ma un impegno un impegno a vivere dentro a vivere dentro ad essere presenti a Dio quando noi siamo presenti a Dio e Dio è presente a noi allora ne viene che se tutta la comunità è composta di queste persone che vivono alla presenza di Dio che fruiscono dalla presenza di Dio che sentono la presenza di Dio una comunità di presenti a Dio è una comunità meravigliosa e allora la preghiera corre Dio si fa palpabile in questa comunità e a questo dobbiamo arrivare lasciamo via tutte le cienfrusaglie che ci impediscono il cammino entriamo nella vita interiore nella vita di esperienze di Dio perché il rinnovamento è chiamato a questi due cammini un cammino interiore di esperienze di Dio e un cammino esteriore di evangelizzazione ma tutti e due i cammini sono connessi tra di loro quanto più noi entriamo intimamente in Dio e Dio entra intimamente in noi tanto più noi siamo capaci di portare Dio agli altri di portarle nel mondo e fare vivere il mondo e allora acclamiamo questa serie al Signore e chiediamo che la sua presenza sia viva dentro di noi sia viva in mezzo alla comunità quando Dio è presente non ci sono diavoli che contano non ci sono sentimenti umani che contano perché Dio presente manda fuori ogni cosa che non è Lui quando c'è un fare di luce non ci sono più tenebre dove c'è un calore enorme un fuoco divampante non c'è più freddo così avviene in noi in questa comunità alimentiamo questo fuoco e abbeveriamoci a questa sorgente di luce e rifacciamo il cammino verso Dio verso l'alto per poter fare un cammino verso il mondo che aspetta la luce del Signore Alleluia 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 Contembro la Tua volontà Tu sei il mio Dio Il mio Signore Creato l'uomo E crede in Te Tu sei rifugio Sei fedeltà Nella Tua lode io rimorerò Gesù è il Signore Sei un'imperatore Guida la Tua chiesa Dal mare difendila Tu sei il mio Dio Il mio Signore Creato l'uomo Che crede in Te Tu sei rifugio Sei fedeltà Nella Tua lode io ti morerò Spirito d'amore Vincolo d'unità Tu sei il Consolatore Che ispiri la benità Tu sei il mio Dio Il mio Signore Creato l'uomo Che crede in Te Tu sei rifugio Sei fedeltà Nella Tua lode io ti morerò Tu sei il mio Dio Tu sei il mio Dio Il mio Signore Il mio Signore Creato l'uomo Che crede in Te Tu sei rifugio Che crede in Te Il mio Signore Nella Tua lode io ti morerò Nella Tua lode io ti morerò Io dimorerò in mezzo al mio popolo Signore tu dimori in mezzo a noi Nel deserto tu avevi la dimora Come dice il libro sacro Questa dimora durante il giorno era coperta da una nube Una nube misteriosa E durante la notte era coperta da un bagliore La si vedeva a distanza Dove erano accampati gli tre eliti Vedevano a distanza la dimora di Dio Era una tenda Sormontata da un grande bagliore Che si vedeva a tanti A tanti Centinaia di metri di distanza Era la dimora visibile di Dio O Signore tu dimori in mezzo al tuo popolo Tu dimori nel tabernacolo Ma tu dimori dentro di noi Tu dimori vitalmente dentro di noi Tu dimori dinamicamente dentro di noi Fa che noi rispondiamo a questa Inabitazione a questa dimora tua dentro di noi Con rapportarci a te Con vivere con te Vivere la tua presenza L'ode e gloria a te o Signore Confermo le parole di Padre Matteo Con Michea 2 Signore affariva gli occhi degli israeliti Come fuoco divorante Sulla cima della montagna Mosè entrò dunque in mezzo alla nube E serì sul monte Mosè è rimasto sul monte Quaranta giorni e quaranta notti O Signore la gloria tua copre il monte Ma se noi saliamo il monte del Signore Anche su di noi scenderà la gloria tua E la tua gloria ci copre Ci mette come dentro una nube La nube del tuo spirito Signore ti chiediamo di entrare nella tua gloria Di entrare nella nube Però per entrare nella nube Ed entrare nella tua gloria Bisogna lasciare la valle E salire sulla montagna Fa o Signore che saliamo il monte del Signore Con cuore mondo e mani pure L'ode e gloria a te Signore Signore ti lodiamo e ti benediciamo Ma tutti questa sera o Signore vogliamo darti lode Tutta questa comunità o Signore ti cerca Questa comunità o Signore ha sete di te E tutti insieme fratelli Tutti insieme sorelle cantiamo al Signore Abbiamo cominciato cantando acclamate al Signore E tutti insieme o Signore vogliamo farti festa Insieme o Signore vogliamo esultare Vogliamo gioire o Signore Vogliamo gioire per te Questi o Signore sono i nostri sentimenti Ci vogliamo mettere tutti in piedi o Signore Perché vogliamo vivere alla tua presenza Ti chiediamo stasera o Signore Che tu veramente venga e prenda possesso di ognuno di noi Vieni ad abitare in noi o Signore Ce l'hai fatto capire Ce l'hai detto chiaramente fin dal primo momento questa sera E noi crediamo che tu sei qui presente o Signore E adesso o Signore tocca a noi Noi ti apriamo la porta del nostro cuore E tu entrerai e vi prenderai dimora La tua gloria riempirà questo Tempio E per questo che noi te lo diamo Signore Per questo noi ti benediciamo E tutti insieme gridiamo Alleluia, alleluia Gloria a te o Signore Benedetto sei tu Lode e gloria a te o Signore Gesù Gloria a te o Signore Gesù è il Signore Gloria al tuo nome Gloria al tuo nome Jesus è il Signore Gloria al tuo nome Grazie a tutti. 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 Non usciamo verso la montagna, non usciamo con i timpeni e con le cetre, con i flauti a cantare e lodare il Signore. Se non abbiamo una meta e non si crea in noi la psicologia della meta, sia di raggiungere quella meta che è il Signore che è sulla montagna e restiamo sulle nostre sedie, le nostre abitazioni, le nostre condizioni mentali, noi non faremo niente. Il peso del nostro corpo, il peso del nostro tetto, l'aria della nostra abitazione. E allora la parola del Signore è uscite fuori, figlio di Gerusalemme, uscite fuori il Signore qui davanti a voi che vi attende, camminate dietro a lui e egli vi condurrà dove lui vuole e dove lui sa. Ecco, fratelli e fratelli e sorelle, ascoltiamo questo invito del Signore, valziamo dalle nostre sedie, dalle nostre situazioni e andiamo incontro al Signore tutti cantando. Alleluia! 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 tristezza, lo sguardo triste che io vedo, è quel cuore appesantito, mettiamolo qui sull'altare, dinanzi a Gesù, lui vuole donarci un cuore pieno di gioia stasera, vuole abitare con noi, vuole donarci la sua gloria, ma che gioia grande che ci vuole donare, alleluia, alleluia al Signore. Canta che ti passa, dice il Signore, canta che ti passa, chi è triste canta, dice Giacomo, cantiamo al Signore. Canto numero 279. Il Signore libera dalla tristezza, il Signore libera tutto, benedetto il Signore per sempre, dall'angoscia ti libererà, alleluia, canterò al Signore, alleluia, un canto nuovo e l'alterio, alleluia, a colui che per sempre regnerà. Il Signore libera i prigionieri, il Signore libera tutto, il Signore libera dalla tristezza, il Signore libera tutto, benedetto il Signore per sempre, dall'angoscia ci libererà, alleluia, canterò al Signore, alleluia, un canto nuovo e l'alterio, alleluia, a colui che per sempre regnerà. La destra del Signore ha fatto meravigliere, la destra del Signore è inalzata. La destra del Signore ha fatto meravigliere, la destra del Signore è inalzata. La destra del Signore è inalzata. La destra del Signore ha fatto meravigliere, la destra del Signore è inalzata. benedetto il Signore è inalzata. E la destra del Signore è inalzata. A colui che per sempre regnerà, a colui che per sempre regnerà, a colui che per sempre regnerà. A colui che per sempre regnerà, a colui che per sempre regnerà. Signore, dite uscite dalla foresta dove siete entrati, perché le vostre vesti si sono impigliate, uscite in pianura, venite al sole, uscite dalla foresta, le vostre vesti sono lacere, perché si sono impigliate negli sterpi della foresta, nelle liane, uscite, uscite fuori e vi chiamo in pianura, io vi chiamo, venite, venite sui prati, vi condurrò della montagna dove sto io, venite, venite, uscite dalla vostra foresta, camminate, camminate con me e cantate con me. Io sono il Signore che vi precedo, io sono il Signore il padrone del regge, io sono il pastore che apre la breccia, camminate dietro a me. Ascoltate questa mia voce stasera, sono io anche il Signore che vi parlo, che vi chiama la riscossa, non fatevi opprimere dei vostri nemici, uscite dietro a me e camminate con me. Io dove vi condurrò, alleluia! Lo Spirito Santo Lo Spirito mi prese e mi condusse nell'altro interno. Ecco la gloria del Signore riempiva il Tempio. Lode e gloria a Te, oh Signore. Signore la tua gloria è qui, in questo tuo Tempio, in questo momento. Tu ancora sei qui, ci mostro ancora il tuo costato, le tue mani, i tuoi piedi e ci dai la pace. Ci soffia lo Spirito, Signore, questo tuo Spirito abita in noi. E chiediamo, Signore, di vivere del tuo Spirito e di lasciarci condurre del tuo Spirito. O Gesù, siamo qui, attorno a te. Se tu non hai il tuo Spirito dentro di noi, non ci sarà pace nei nostri cuori. Non ci sarà pace tra di noi. Se tu non ci dai il tuo Spirito, noi non potremo muoverci e camminare. Non potremo lodarti e benedirti. Lode e gloria a Te, oh Signore. Amore. Amore.